Il posto occupato per una donna vittima di violenza è presente anche all'università e anche all'istituto tecnico industriale di Trento. Sentiamo ancora Marilena Guerra. Non si ferma l'iniziativa posto occupato voluta da Soroptimist Club di Trento. Stamani un posto occupato, una sedia vuota simbolicamente riservata ad una donna vittima di violenza che non c'è più, è stata collocata in rettorato nella sala Stucchi, mentre è già presente da alcuni giorni nell'atrio della facoltà di economia, nel foyer della facoltà di giurisprudenza, all'auditorium di lettere e filosofia e nell'aula Kessler di sociologia. Stamani oltre alla presidente di Soroptimist Patrizzi e Cristofori Fedrizi era presente anche la rettrice dell'Ateneo Daria De Pretis. È importante che chi passa nell'università, che è il luogo della formazione, il luogo della cultura abbia notizia e anche una sensazione forte di questo fenomeno che tutti dobbiamo impegnarci per combattere. Solo qualche giorno fa un posto occupato è stato riservato in un altro importante luogo, a Liti di Trento. Anche in questo caso l'obiettivo è di coinvolgere i giovani, perché la cultura del rispetto dell'altro genere deve partire proprio dalla scuola. Mi pare che la cronaca ci porti quotidianamente delle esperienze e degli eventi che evidenziano come manchi una formazione in questo ambito e quindi sicuramente una scuola come la nostra, tra l'altro, che è prevalentemente maschile, è il luogo indicato per avviare un processo di formazione o di riflessione su queste tematiche. È molto importante perché comunque ogni essere umano dovrebbe avere la stessa importanza sia dal punto di vista sociale che anche su tutti i punti di vista e ogni uomo non dovrebbe sentirsi, tra virgolette, importante perché picchia una ragazza, ma se la tratta bene, insomma. Si potrebbe dire tratta tutte da principessa e sarai re, no? L'auspicio di Soroptimist è che l'iniziativa si estenda ora anche ad altre istituzioni, enti pubblici, servizi di ogni genere e luoghi di aggregazione sociale.